Traversetolo, il paese dei bambini sepolti. La città dei bambini sepolti a Traversetolo. Traversetolo, un piccolo comune italiano nella provincia di Parma, è segnato da una storia tragica che tocca profondamente i cuori della comunità. Nei dintorni di questo incantevole paese si trova un piccolo cimitero, divenuto simbolo di un'indelebile tragedia in cui molti bambini sono stati strappati troppo presto alla vita. La gente della regione ricorda i bambini defunti e le famiglie che devono vivere con una perdita incommensurabile. La storia di Traversetolo è in molti modi anche la storia di una famiglia segnata dalla perdita dei propri figli. Secondo i rapporti, negli ultimi decenni ci sono stati numerosi decessi tra i bambini della città, che hanno lasciato non solo shock e tristezza, ma anche domande sui motivi di queste tragiche sorti. Fonti riferiscono che Nicolas, un bambino di soli sei anni al momento della sua morte, è morto alcuni anni fa a causa di una malattia incurabile. La famiglia soffre ancora per la perdita e racconta spesso quanto desiderino quegli giorni felici. Die umstände, die zu den vielen frühen Todesfällen führten, sind vielschichtig. Experten haben auf verschiedene Faktoren hingewiesen, darunter vererbbare Krankheiten und unzureichende medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen Italiens. In Gesprächen betonen viele Bewohner von Traversetolo die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Gesundheitsversorgung in ihrer Gegend zu schärfen. Es gibt Stimmen, die den Wunsch äußern, dass solche Tragödien in der Zukunft vermieden werden können. Eine Berichterstattung über die verlorenen Kinder und die Trauer ihrer Familien führt zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die sowohl als Mahnung als auch als Aufruf zur Handlung verstanden werden kann. Le circostanze che hanno portato ai tanti decessi prematuri sono complesse. Gli esperti hanno richiamato attenzione su diversi fattori, tra cui malattie ereditarie e una scarsa assistenza sanitaria nelle regioni rurali d'Italia. Nei colloqui, molti abitanti di Traversetolo sottolineano la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sanità nella loro zona. Ci sono voci che esprimono il desiderio che tali tragedie possano essere evitate in futuro. Una copertura mediatica sui bambini perduti e sul dolore delle loro famiglie porta a una maggiore consapevolezza pubblica, che può essere interpretata sia come monito che come appello all'azione. La città di Traversetolo pianifica diversi eventi per onorare i bambini deceduti e per supportare le famiglie colpite. Le organizzazioni locali si stanno impegnando sempre di più per offrire aiuto in tempo utile e garantire anche il supporto psicologico ai familiari coinvolti. Rimane la speranza che le future generazioni di Traversetolo possano essere risparmiate da tali tragedie. La città ha scelto consapevolmente di non limitarsi a commemorare questa storia, ma anche di lavorare attivamente per migliorare le condizioni di vita per tutti i bambini e offrire un maggiore sostegno alle famiglie.